Ringrazio anch'io ovviamente di questo invito, soprattutto Morese, col quale mi lega una amicizia pluriennale, non diciamo pluridecennale. Dunque, qualche considerazione naturalmente con la mia deformazione professionale di sociologo. Io sto riflettendo molto, ovviamente, come tutti noi, sulla situazione attuale, soprattutto a livello internazionale, perché ormai siamo parte intimamente interconnessa con quello che succede nel mondo. E sono tre i capitoli, diciamo, su cui mi sto soffermando. Uno è, parliamo continuamente di crisi, ma probabilmente non si tratta di crisi. Credo che questo stia cominciando a serpeggiare un po' a livello di opinione pubblica. Per crisi si intende una specie di influenza, uno si piglia l'aspirina e dopo poco passa. Qui non siamo assolutamente in questa situazione. Siamo nella situazione di una ridistribuzione mondiale del reddito che, a mio avviso, dal punto di vista della mia ideologia, diciamo, sociopolitica, è un fatto positivo. Quando io ero ragazzo, mi ricordo che mia mamma a Natale, quando era tutto apparecchiato, ci faceva pregare per i poveri. E io dicevo, ma mamma, abbiamo pregato già l'anno scorso, è possibile che Gesù non sente? Ora, Gesù ha cominciato a sentire. Questo è il problema. Per cui i poveri stanno diventando meno poveri. A meno che non ci mettiamo a pregare dal prossimo Natale, affinché Gesù distolga l'attenzione dai poveri, questa situazione resta. Noi abbiamo 34 mila dollari pro capita, l'Italia. La Cina 4 mila dollari pro capita. L'India 1.200 dollari pro capita. Il Brasile 11 mila dollari pro capita. Ma vi pare che noi possiamo continuare a crescere? E vi pare che si possa continuare a pigliarci in giro parlando di crescita? Poi c'è una seconda presa in giro, di cui parlo subito dopo, che essendoci la crescita aumenta l'occupazione. Come se le aziende quando aumentano i soldi comprassero operai. Comprano macchine. Sarebbero pazze a comprare gli operai. Sarebbero pazzi. Quindi sono tutti collegamenti. Devo dire anche quello sulla produttività, Raffaele. È un collegamento spurio. Collettività significa E, efficienza, uguale P su H. Quantità di prodotto diviso il tempo lavorato. Più aumenta l'efficienza e la produttività, meno lavoro occorre. Ma io sono per la produttività, perché sono conto del lavoro. Non so se è chiaro. Io non voglio che la gente lavori molto. Io voglio che la gente lavori poco e produca molto. In modo che il tempo che resta, come diceva Keynes nel 1930, sia utilizzato per crescere intellettualmente, non per abbrutirsi in una miniera o in una banca. Quindi, primo problema, non c'è crisi, ma c'è ridistribuzione mondiale della ricchezza che proseguirà. C'è poco da fare. Noi dobbiamo ridurre, secondo i miei calcoli, almeno di 15 punti il nostro prodotto interno lordo pro capita. Non possiamo continuare con 34 mila dollari se la Cina c'ha 4 mila dollari. Nel 2020 la Cina avrà 400 milioni di automobili che vanno a benzina. Vi pare che noi continueremo a pagare la benzina come la paghiamo oggi? Costerà il doppio a benzina, ma non c'è dubbio. Basta perfino un economista a capirlo. Insomma, non occorre essere geniali. Seconda cosa, c'è una rivoluzione sostanziale nel lavoro. Quando Marx scrive Il Capitale, il 94% dei lavoratori nella città più industrializzata del mondo, a Manchester, erano lavoratori dipendenti manovali. Il 94% lavorava con le mani. E i nostri sindacati, quelli che stanno in questo momento qui a fianco, ragionano ancora in termini di 94% di manovali. Non si sono accorti che loro stessi non sono manovali. Cioè, Buonanno non è un manovalo. Non so se si chiama, non lavoro con le mani, lavoro con la testa. Cioè, il fatto che il 72% dei lavoratori in Italia e il 76% degli Stati Uniti lavorano con la testa, non con le mani. Tutte le leggi vengono fatte in funzione di un metalmeccanico inesistente. Il quale lavora solo con le mani, perché pure il metalmeccanico ormai non fa altro che guardare uno schermo di un computer e regolare le cose. Terzo aspetto, e il più importante di tutti secondo me, è che manca un modello di società. Questo è molto interessante. Tutte le società che abbiamo conosciuto finora sono nate dopo un modello teorico. Il Medioevo cristiano è nato dopo il Vangelo, è nato dopo la diffusione del cristianesimo, è nato dopo Sant'Agostino, è nato dopo San Gregorio Magno. C'era già un modello perfetto al suo interno, coerente, al quale la società si è adeguata. E così è avvenuto per tutte le società. Gli Stati musulmani sono nati dopo il Corano, non prima del Corano. E prima Morese ha citato i Tiderot e Voltaire. Lo Stato liberale dell'Ottocento è nato dopo l'illuminismo, non prima dell'illuminismo. C'era già tutto sulla carta, come doveva essere l'economia, l'aveva detto Smith, come doveva essere la politica, l'aveva detto Tiderot, eccetera. Come doveva essere lo Stato, nel suo insieme, l'aveva detto Tocqueville. Dopodiché è stato fatto. Noi invece abbiamo lavorato non come i catalani, cioè quelli che hanno progettato le città del Sud America prima sulla carta e poi sulla realtà, ma come i lusitani, cioè i portoghesi che sono arrivati in Brasile e come seminatori gettavano case. E nasceva San Paolo, la più squinternata delle città del mondo. Noi abbiamo fatto questa società in questo modo, quello che le corpiosie chiamavano stile positano, cioè case che si aggregano man mano, ne può venire pure qualcosa di carino, diciamo, da guardare dal mare. Però da vivere dall'interno è una tragedia, si chiama favela, non so se è chiaro. Noi abbiamo una società favela, non c'è un modello di società al quale adeguarsi. Se noi tre fossimo stati tre lavoratori dell'Ottocento, uno era cristiano, l'altro era rivoluzionario, l'altro era socialista, il cristiano c'aveva la Mennè, c'aveva la Rerum Novarum, il comunista c'aveva Marx, c'aveva Engels, il socialista c'aveva Hoven, c'aveva Bernstein. Oggi uno di noi, chi c'ha, se è incazzato non sa a chi si riferisse, se è moderato non sa a chi si riferisse, se è debosciato non sa a chi si riferisse, non c'è un modello. Questo significa che tutto sommato non sono tanti i politici che non hanno fatto il loro dovere, ma gli intellettuali che dovevano essere dietro i politici che dovevano creare questo modello a cui tutti noi dovevamo conformarci. Non so se è chiaro, il politico subisce un'assenza di vedute, poi ci mette del suo, diciamo così, perché ci vuole pure una fantasia immensa per mettere 4 milioni di studenti e 70 mila professori di università in mano a un'avvocatessa fallita di Brescia, là ci aggiungono del suo, ma invece dell'avvocatessa ci fosse stato un genio, quale modello aveva di società a cui formare i giovani? Non c'è, dicevo a letta giorni fa, ma se tu domani mattina hai risolto il problema dello spread, hai risolto il problema della disoccupazione, dove porti l'Italia? E tu non lo sai. Diceva Seneca che nessun mento è favorevole per il marinaio che non sa dove vuole andare, pure se passa la crisi, ma dove andiamo, che facciamo? Chi ce lo dice? In assenza totale di ideologie, perché abbiamo detto che le ideologie non servivano, ho parlato che per le ideologie migliaia e migliaia di cristiani si sono fatti ammazzare, migliaia e migliaia di operai si sono fatti ammazzare, senza ideologie, è certo che è comodo, non essendoci l'ideologia tutte le vacche sono grigie, ovvio, tutto va bene, si può avere pure un presidente del consiglio puttaniere, qualunque cosa, non essendoci ideologie si può fare e noi abbiamo tollerato tutto questo, parliamoci chiaro, dall'età che vedo presente e dalla presenza massiccia di ventenni in questa sala, insomma mi pare che noi tutto sommato con chi ce la vogliamo pigliare? Dobbiamo soltanto sputarci vicendevolmente in faccia, chiedere come si fa in chiesa la pace e dire sputami in faccia a chi ci sta a destra o a sinistra. Tutto questo che cosa comporta? Comporta come prima cosa un disorientamento generale, cioè la sigla di questo momento è il disorientamento, sono caduti tutti i paletti, perché è logico, cadute le ideologie cadono i paletti, ci è piaciuto? Ebbè questa è la bicicletta su cui pedalare, che significa disorientamento? Che non sappiamo più niente, vi faccio un elenco, non sappiamo più cosa è bello e cosa è brutto, andiamo alle mostre, ma non si capisce più niente, non sappiamo più cosa è buono e cosa è cattivo. Ieri ho sentito un dibattito alla trasmissione eticamente centrale nella nostra vita da 40 anni, che si chiama Porta a Porta, non si capiva più se questi ragazzi sono puttanelli o no, la mamma, che diceva, no ma io non le istigavo alla prostituzione, io pensavo semplicemente che spacciavano droga. Capite? Io pensavo che andava al catechismo, questa cosa qua. Non sappiamo più cosa è vivo e cosa è morto, abbiamo discusso per un anno per decidere se l'ingliore era vivo o era morto, non so se è chiaro, non sappiamo più cosa è destra e cosa è sinistra, ma questa è ovvio, le larghe intese ne sono un esempio. Non sappiamo più cosa è maschio e cosa è femmina, cioè cose su cui i nostri bisogni erano follemente ma decisamente sicuri, non sappiamo più cosa è occupato e disoccupato, perché sono tutte queste forme interpretate che non si capisce io, le mie figlie non ho capito ancora, ci hanno 40 anni, se sono occupato o disoccupato. So che mi chiedono continuamente soldi, quindi forse sono disoccupato, però dicono che la mattina vanno a lavorare e spero che in questo caso vanno veramente a lavorare e quindi non lo so. Non sappiamo più cosa è globale e cosa è locale, è difficile dirlo. Io la settimana scorsa sono stata due volte a San Paolo e l'altra settimana sono stata una volta in Cina, sono locale o sono globale, non lo so, abita a Corso Vittorio Emanuele o abita a Ipanema. Mi è difficile capirlo. Cosa è virtuale e cosa è reale, non ne parliamo e questo significa pure se siamo nomadi o se siamo stanziali e cosa è Europa e cosa è Stato nazionale. Vedete che è tutto complicato, questo comporta almeno quattro tipi di conseguenze, le dico rapidamente. La prima conseguenza è un senso di crisi, ci sentiamo tutti in crisi, vi giuro, tranne Brasile e Cina, io giro continuamente, tutti i paesi del mondo si sentono in crisi. Io sono sicuro che se parlassimo a quattro occhi con la Merkel, quella si sente in crisi pure lei. Tutti ci sentiamo in crisi, non ce n'è uno che non si sente in crisi. Ce n'è uno però ve lo dico alla fine, chi è perché ha l'ideologia? Avendo l'ideologia ci sta pregando tutti quanti, ci toglie il terreno di lavoro. Ci sentiamo in crisi, sentendoci in crisi che significa? Cosa fa chi si sente in crisi? Ve lo dico io, per prima cosa smette di progettare il futuro. Questa è la conseguenza del sentirsi in crisi. Se io ho la colica renale non progetto le mie vacanze natalizie, c'è poco da fare. Ci sentiamo in crisi, non progettiamo il futuro. Non progettando il futuro naturalmente ci sentiamo disorientati e si crea questo loop. Seconda cosa, abbiamo smarrito quello che i giuristi chiamano sinallagma, cioè il rapporto bilanciato tra violenza dei potenti e impotenza degli impotenti. Cioè c'è una violenza del potere di gran lunga più smisurata di quella a cui gli altri si contrappovano. Vent'anni fa ricordo che feci un articolo sulla lotta di classe che i ricchi stavano facendo ai poveri. Mi ricordo pure che Gallino scrisse un articolo per stroncare questa mia idea, ma ha fatto un libro intitolato La lotta di classe dei ricchi contro i poveri. L'ha capito pure Gallino e qui ci soddisfaccio. Che quant'è una cosa in Italia la capisce il Censis, l'osservatore romano, e Gallino significa che proprio Cani e Porci ormai hanno capito un fenomeno. Questo comporta che l'assenza di reazione alla violenza porta all'aumento della violenza. Io ho iniziato il mio lavoro all'Olivetti, fui assunto per mia fortuna a Adriano Olivetti che mi incontrò in un corridoio, ero stagista, e mi chiese che segno zodiacale ero. Io dissi Acquario, disse ottimo segno, con quale ascendente? Dissi pure Acquario, ti assumo subito, e fui assunto. Cioè la follia di Adriano Olivetti mi dette un posto di lavoro. Adriano Olivetti quando mi assunse pigliava cinque volte più di un operaio, non so se è chiaro, cinque volte. Poi, due anni dopo, Valletta portò 1 a 20 il suo stipendio e fu un grande scandalo. Tu te lo ricordi di sicuro. Il Mondo, di Pannunzio, fece un dibattito sullo scandalo di 1 a 20. Oggi Marchionne guadagna 1 a 1170 e nessuno si scandalizza. Chiamparino l'ha difeso, Fassino l'ha difeso, Renzi l'ha difeso, poi dopo ha fatto l'autocriti. Ma allora l'ha difeso e Berlusconi guadagna 1 a 12.300, non so se è chiaro, e ci sembra normale. Che stanno a fare qui fuori? Contro chi? Che cosa vogliono questi che stanno manifestando, interrompendo il traffico, se non si comincia da 1 a 12.000? Non so se è chiaro, che è molto più scandaloso che ricevere 27 puttanelle a sera a casa. Molto più scandaloso, ve lo assicuro. È una cosa indegna. Terza cosa. Il tener conto dell'antitesi tra occupazione e produttività, tra occupazione e crescita. L'ho già accennato prima. Se l'economia cresce e l'occupazione diminuisce, state tranquilli. Ed è un bene, perché è un bene che gli esseri umani non lavorino troppo. Naturalmente se diminuisce l'occupazione si diminuisce la torta. Ma quelli che la vogliono mangiare aumentano. Giustamente, le donne non lavoravano, giustamente vogliono lavorare. Gli handicappati non potevano lavorare, con le nuove tecnologie possono lavorare, eccetera. Cosa si fa quando aumentano i commensali e la torta resta uguale o diminuisce? Si riducono i bocconi. Ma questa è una cosa, come fa un economista a non capirlo. Io, delle volte, Ighino. Ighino sembrava una cosa, perché diceva cosa di destra facendo il senatore di sinistra. Io gli dicevo, guarda che se tu passi al centro o a destra non si parlerà più di te, perché dirai cose normali nel posto normale. E così è successo. Avete più sentito parlare di chi? Non esiste più. È chiaro, perché se il Papa va sul pulpite e bestemmia tutti parlano del Papa. Se va sul pulpite e dà una benedizione è un fatto normale. Cosa è chiaro. Allora bisogna capire questi problemi, altrimenti tutto quello che si ha. E infine, la quarta cosa, secondo me, terribile, è che aumentando la povertà, per tutti i motivi che ho detto prima, e riducendosi la reazione a questo aumento di povertà, detto in parole povere, il povero non si incazza più, non c'è più paura di essere gambizzati, che è una cosa terribile essere gambizzati. Io non gambizzerei nessuno, ma la paura di gambizzare la userei, però. Perché con quella paura qualche cosa si ridistribuì. Pietro Barilla vendette la Barilla e se ne scappò in Svizzera. Ma così, siamo freschi. L'altra cosa è chi si fa carico dei poveri. Questa è una delle cose che è caduta assolutamente. Addirittura si dice che siccome hanno preso le tessere del PD alcuni albanesi, questo è uno scandalo. Cioè, degli albanesi non si deve prendere carico nessuno. Cioè, essendo albanesi, quindi è un imbroglio. Ma lei è la fine del mondo. Finalmente, a me mi meraviglia che il PD si prenda carico per fine dei poveri, perché insomma non ha nulla a che fare con i partiti che se ne presero carico, non ha nulla a che fare con Marx, cioè ha rifiutato tutto perché è ideologia, quindi non si deve... Ma chi si piglia carico dei 5 milioni di poveri? Già anni fa, in una discussione con Sergio Conferati in televisione, mi diceva, scusate, ma che cavolo? Io non so che cosa fa lui nella sua pensione. Piglia di carico di questi 5 milioni. Sono un partito, immediato. Il sindaco di Coso, di cui ho la fortuna di essere compaesano, perché sono di Santaglio dei Coti, ha avuto questo settore, perché si è preso carico dei poveri. Non si è preso carico. Ha detto che probabilmente si piglierà carico dei poveri. Basta dirlo. È già un 1.75%. E questi stanno a rincorrere qualche votuccio di centro essendoci 5 milioni di poveri che non hanno nessuno che li rappresenta. Ma, scusa, Giorgio, pure tu. Hai un sapere infinito. Sei un liofilizzato tutto il sapere, la cultura del lavoro. Porca miseria. Dai, facciamo una cosa in cui il punto di riferimento sono sti 5 milioni. Se non altro perché sono 5 milioni di voti. Se non altro per questo. Diciamo così. Quindi concludo dicendo. Qui ci sta scritto che bisogna ridistribuire la ricchezza e il lavoro. Ed è una cosa sacrosanta. Però, guarda che c'è da ridistribuire pure il potere, il sapere, le opportunità e le tutele. Sono 6 cose che vanno scritte qua. E sono talmente incatastrate che non si può... Ma è così, aumentiamo l'occupazione di chi organizzi i convegni. È già una cosa. Il fatto è che sono talmente incastrati che non puoi difendere e ridistribuire qualcosa di questo senza ridistribuire tutto il resto. Per cui io concludo con un solo appello rapidissimo. Ci vuole più ideologia e ci vuole meno tolleranza. Quando qualcuno vi dice che non ci vuole ideologia vi sta fregando. Ma il più delle volte siamo stati noi a dirlo e a fregare gli altri. In questo momento c'è uno solo che sta riesumando. Con grande intelligenza o con grande furbizia, decidete voi, più ideologia e meno tolleranza. Ed è Papa Francesco. E qua in tutto il mondo è osannato. Tra l'altro è osannato pure dai ricchi. Questa è una cosa che mi mette in forte sospetto. Ovviamente. Però è così. Più ideologia e meno tolleranza. Altrimenti ci ritroveremo, essendo tutti giovani, fra trent'anni in questa stessa sala, in una seduta spiritica in cui ovviamente diremo che bisogna fare qualcosa. Vi ringrazio.